Ciao ragazzi, io sono Andrea e vi do il benvenuto su Solo Horror. Scusate per l'ennesimo cambio di sfondo, ma non sono una persona stabile, ok? Comunque, nell'episodio di oggi parleremo della regione Liguria, dove a mia grande sorpresa sono accadute davvero tante cose orribili e molto spesso rimaste anche irrisolte. Il caso che però mi ha colpito di più e che ha avuto anche tanta rilevanza mediatica è quello di questo signore di cui non so se posso dire il nome perché YouTube potrebbe arrabbiarsi. Per comodità e per evitare la furia onnipotente del signor YouTube, lo chiameremo semplicemente Donato, per tutto il resto del video. Prima di cominciare vi ricordo che mi trovate anche su TikTok e sul canale Viola, in cui parliamo praticamente senza censure anche di casi come questo. E niente, se vi va fate un salto perché la community che si è creata è davvero fantastica. Detto questo, mettetevi comodi e iniziamo la macabra storia di oggi. Negli anni scorsi la storia di Donato ha letteralmente affascinato e sconvolto tutta Italia. In effetti si tratta di una persona particolare, perché agiva apparentemente senza uno schema e senza una ragione, anche se nella sua testa uno schema c'era eccome. Nel video di oggi proviamo a capire perché e cosa ha spinto Donato a uccidere 17 persone in soli sei mesi. Un numero impressionante che si avvicina e a volte raggiunge i numeri dei più prolifici serial killer statunitensi. Nonostante ormai sappiamo tutti che queste persone abbiano in comune tantissimi aspetti, il nostro Donato sembra differire per molte, molte ragioni. Tanto che la sua figura non sembra essere per niente quella di un serial killer. Ma partiamo con ordine. Per capire cosa accade nella testa di Donato, dobbiamo andare indietro nel tempo fino al 10 luglio del 1951, quando nasce a Potenza. Suo padre è un dipendente pubblico e sua madre è una casalinga. Da subito la sua vita è stata segnata dall'instabilità. Per via del lavoro del padre, infatti, sono presto emigrati ad Asti, per poi stabilirsi a Genova finalmente, quando Donato aveva 5 anni. Vi ricordo che quelli erano gli anni in cui la figura maschile doveva essere imponente, potente e con una grande virilità. Ed era proprio questo il tratto distintivo di suo padre. Un padre che, come accadeva troppo spesso in quegli anni, approfittava del suo potere e riversava le sue frustrazioni sui figli, in particolare su Donato. Il piccolo, infatti, era affetto da atrofia agli arti inferiori, il che provocò una ridottissima dimensione del suo bene. Questa condizione fu da subito un problema, sia per Donato che per suo padre, che invece avrebbe voluto crescere un uomo possente e virile. Per questo, anche se questa condizione non era colpa di nessuno, i genitori si comportavano come se fosse tutta colpa di Donato. Vari episodi di violenza ingiustificata hanno segnato la sua infanzia. Per citarne alcuni, il padre era solito portare la sua famiglia in basilicata per le vacanze, e una volta lì costringeva il piccolo Donato ad abbassarsi gli slip davanti alle cuginette, per essere deriso per le sue dimensioni ridotte. Un'umiliazione non da poco. E inoltre la madre, succube di suo marito, faceva vedere a tutti i parenti le foto di Donato in cui si vedeva tutto, prendendolo in giro, deriso dalle persone che avrebbero dovuto donargli affetto. Ma non è tutto, perché ha sofferto pure di enuresi notturna fino all'adolescenza. In poche parole se la faceva addosso mentre dormiva, e la madre anziché capire e cercare di aiutarlo, Appendeva il materasso sporco di pipì fuori dal balcone per informare tutto il vicinato che ancora una volta Donato se l'era fatta addosso. È tristissimo pensare che i membri della propria famiglia possano arrivare a tanto. Perché poi? Il giovane Donato per tutta la vita non ha vissuto altro che vergogna, umiliazione e dolore. Questo l'ha portato a commettere i primi crimini. In adolescenza gli piaceva particolarmente rubacchiare. Piccoli furti si intende, ma a soli 15 anni ha iniziato ad avere i primi problemi con la giustizia. Culminati poi nel 1974 con un arresto in flagranza di reato. E nel 1976 per rapina a mano armata. Come vedete a soli 20 anni era già coinvolto in atti piuttosto gravi. E non c'è da stupirsi. Donato odiava il mondo. La società e chiunque al di fuori di se stesso. Anzi, probabilmente odiava anche se stesso. Il modo in cui è cresciuto ha fatto insorgere un forte tratto antisociale nella sua personalità. Era diventato ormai un uomo negli anni 80. E la sua vita girava ancora intorno ai furti, ma soprattutto intorno al gioco d'azzardo. Stando a quanto dichiarato da lui stesso, in quell'epoca rischiava anche grandi somme. Ma ripagava sempre i suoi debiti in un modo o nell'altro. In quel periodo ha iniziato a capire di non sopportare tutte le persone che tentavano di fregarlo. E in quell'ambiente chiaramente non erano poche. Un'altra cosa che aveva iniziato a capire di non sopportare. Era il dolore. Non voleva farsi male. E non sopportava la vista di qualcuno che stava soffrendo. Decisamente molto strano se pensiamo a tutto quello che ha fatto. Ma su questo punto ci torneremo dopo. Per tantissimi anni, questo è stato il suo mondo. Gioco d'azzardo, furti e rapporti occasionali con qualche protesta. Donato faceva fatica a trovare amici. Figuriamoci un amante. Ma andava bene così. Lui non si fidava degli altri. Ma tornando alla sua vita nel 1987, un fatto lo sconvolse totalmente. Suo fratello Michele, non riuscendo a riprendersi dopo la separazione con la compagna, decide di andare alla stazione di Genova a Pegli, insieme a suo figlio di soli 4 anni. Attende. Poi, quando vede un treno avvicinarsi, abbraccia suo figlio e si getta sui binari con ancora il piccolo tra le braccia. Questo fatto segnò definitivamente Donato. E contribuì ad amplificare ulteriormente i suoi disturbi mentali. Come se ciò non fosse già abbastanza poi, nel 1990 fu vittima di un incidente stradale che lo fece rimanere in coma per qualche giorno. Insomma, una vita segnata per sempre da dolori, umiliazioni e chi più ne ha più ne metta. Non è raro che in questi casi si sviluppi qualcosa di mostruoso all'interno delle persone. Donato però ha una peculiarità. Odia vedere soffrire. Odia le ferite e odia il sangue. Non gli piace, fa di tutto per evitare tutto questo. Ma allora perché è diventato il mostro che conosciamo oggi? Ebbene, un giorno qualcosa in lui scattò. Ricordate che negli anni precedenti aveva capito di odiare tutti quelli che si prendevano gioco di lui. Ecco, nell'ambiente del gioco d'azzardo aveva conosciuto molte persone. E due di queste erano diventati suoi amici. Più precisamente si trattava di Giorgio Centanaro e Maurizio Parenti. Il 16 ottobre del 1997 però, i due, che riteneva amici, avrebbero mormorato qualcosa tra di loro alludendo il fatto di aver fregato Donato al tavolo da gioco. Da quel momento non ci ha più visto. Ha aspettato pazientemente fino a seguire Giorgio in casa sua, dove ha fatto irruzione e ha aggredito l'uomo. Lo ha preso per il collo e ha s***o fino a fargli emettere l'ultimo respiro. Ma in questo caso non partirono mai indagini, perché la sua morte venne archiviata per cause naturali. In effetti Donato era stato bravo a non lasciare prove. E quando ha saputo come era stato archiviato il caso, per la prima volta nella sua vita, si è sentito forte, potente, un uomo da temere. Proprio come suo padre voleva che fosse. Per questo pochi giorni dopo, il 24 ottobre, si reca a casa di Maurizio Parenti e con una scusa si fa aprire la porta. Dopo aver legato e derubato Maurizio, inizia ad urlargli contro perché gli aveva mancato di rispetto, mormorando quelle cose qualche sera prima. Dopo aver sfogato tutto l'odio, non si ferma e lo fredda con un singolo colpo d'arma da fuoco. Ovviamente non gli era piaciuto usare le mani la volta precedente. Perciò questa volta, da lontano, decide di optare per un approccio più distaccato. Ricordate che odiava il dolore e tutto ciò che comportava anche sulle altre persone. Ma tornando ai fatti, l'uomo non era solo in casa. Infatti la moglie di parenti, Carla Scotto, era lì con loro. E quando ha iniziato ad agitarsi per via di ciò che stava accadendo, spara pure a lei. Quindi, prende le sue cose e fa prendarsene. Ma si rende conto che Carla è ancora viva e sta soffrendo. L'unica cosa che gli viene in mente in quel momento è fermare la sua sofferenza. E lo fa nel peggiore dei modi, ovviamente, colpendola un'altra volta allo stesso modo. E da questo momento, ragazzi, potreste pensare che vendicandosi dei due che gli avevano mancato di rispetto, si sarebbe calmato. Ma no. In effetti, quello era stato l'unico modo che gli aveva permesso di sentirsi forte, di sentirsi temuto. E il fatto che nessuno aveva ancora sospettato di lui, lo esaltava. Nei mesi successivi, infatti, inizierà la sua furia o m***a vida, che lo fece ricordare come il killer delle progettute, ch***a dei treni e mostro della Liguria. Le vittime, purtroppo, sono tantissime. E se dovessi raccontarvi per ognuna come sono andate le cose, probabilmente il video durerebbe qualche ora. Ma dato che è importante ricordarle, vi dirò i dettagli essenziali. 27 ottobre 1997. Con in mente una rapina, irrompe in casa dei coniugi Bruno Solari e Maria Luigia Pitto. E li uccide, a colpi di pistola. 13 novembre. A 20 miglia, fa fuori Luciano Marro. Un cambio a valute a cui ruba 45 milioni di lire. 25 gennaio 1998. A Genova, spada un metronote di nome Gian Giorgio Canu. Previede un rancore verso le forze dell'ordine. 9 marzo 1998. Fredda stela a Truia. Una prostituta albanese. Sempre con un colpo d'arma da fuoco. 18 marzo. A Pietraligure. Condanna alla stessa sorte la prostituta Ludmila Zubskova. 20 marzo. Ancora a 20 miglia. Fa fuori un altro cambio a valute nello stesso modo. Di nome Enzo Gorni. Per la prima volta, qualcuno lo vede allontanarsi con una Mercedes nera. Era il cognato della vittima. Il 24 marzo, poi. Finalmente qualcosa sembra cambiare. Donato porta con sé una prostituta transessuale in una villa di Novi Ligure. La donna si chiama Lorena e intuisce subito il pericolo quando l'uomo parcheggia in modo da bloccarle l'uscita dal lato del passeggero. In evidente stato d'allerta, appena vede delle luci di una pattuglia, inizia a urlare e si avvicinano due metronotte. Capendo che la situazione è pericolosa, chiedono a Donato di uscire dall'auto. E così fa, esce. E con una freddezza assoluta, spara ai due metronotte, ferendoli gravemente. Lorena, approfittando della situazione, prova a scappare. Ma viene raggiunta da Donato, che le spara un colpo all'addome. A questo punto, la donna fa finta di essere deceduta. E Donato torna indietro per dare il colpo di grazia ai metronotte. Ancora una volta non sopportava l'idea di vederli soffrire. Così, Massimiliano Gualillo e Candido Randò, non sopportano la vita. Accadono altre cose, intanto, ma in sostanza Donato se ne va, credendo che Lorena fosse ormai fatta. Ma in realtà non lo era. Era solo gravemente ferita, e riesce a trascinarsi verso i corpi dei due metronotte e contattare una centrale di polizia grazie a una radiolina. Lorena si salva. È la prima persona ad essere riuscita a sfuggire dalla sua furia, ed ha una descrizione dettagliata alle forze dell'ordine, che creano un identikit. Purtroppo, però, questo non è abbastanza per fermarlo. 29 marzo. A Cogoleto, uccide un'altra prostituta di nome Tessi a Dodo. Da qui, le indagini prendono una svolta inaspettata. Il RIS di Parma collega l'arma utilizzata al caso di Stella Truia, e successivamente viene ricollegata anche ad altri omicidi. Ormai era chiaro ciò che stava accadendo. E si iniziò a spargere la voce su un presunto killer di prostitute. Peccato, però, che un agente alle prime armi rilasciò alcune informazioni segrete ai media. E dato che Donato era sempre ben informato, capì che doveva cambiare qualcosa nel suo modus operandi. La sua Mercedes era stata ricollegata ai vari diritti, dunque non poteva continuare ad utilizzarla. Tantomeno poteva ancora prendere di mira solo le prostitute. Il 12 aprile, quindi, decide di prendere un treno nel quale scassina la porta del bagno e spaga a Elisabetta Zoppetti, un'infermiera milanese di ritorno da una vacanza. Prima di farlo, però, ovviamente le copre la testa con la giacca che era appesa lì vicino. Non si ha mai che la vedesse in volto mentre soffriva. Ma comunque la sua furia non è ancora finita. 14 aprile fa fuori un'altra partita, Cristina Valla. 18 aprile, torna sul treno Genova Ventimiglia e decide Maria Angela Rubino allo stesso modo in cui aveva fatto con Elisabetta, ma con una piccola differenza. Questa volta, dopo aver completato il suo atto di dimostrazione di potere, decide addirittura di m****arsi lì. Non posso darvi altri dettagli. Da quel momento è il panico, le cronache non fanno altro che parlare del mostro della Liguria, del killer dei treni. Hanno tutti iniziato a preoccuparsi solo quando dalle m****stitute è passato a colpire con casualità sui treni. Come succede spesso in Italia, infatti, si passa all'azione solo quando ormai è troppo tardi. Perché finché erano m****stitute, poche persone si preoccupavano. Ma comunque, in quei giorni vengono anche raccomandati i viaggiatori di prendere il treno solo se necessario e di viaggiare in compagnia. Insomma, erano davvero tutti terrorizzati. Infine, 20 aprile 1998, in un'area di servizio sull'autostrada Genova Ventimiglia, Donato rapina e infine uccide il benzinaio Giuseppe Mileto. In tutti questi debiti sembra non esserci alcun collegamento. Donato sembrava scegliere le vittime con assoluta casualità e infatti ammetterà lui stesso che faceva proprio così. Questa è una cosa decisamente spaventosa. La mancanza di schemi, di idee chiare su cosa fare, rende un s**** killer ancora più temibile. L'unica cosa che alcuni di questi debiti avevano in comune è che le vittime avevano provato ad imbrogliarlo in qualche modo, come cercando di fuggire o salvarsi la vita. Ma questo è davvero l'unico punto in comune tra alcuni dei suoi crimini. A dire la verità, molto spesso uccideva perché gli andava di farlo. Il chi e il perché non erano importanti. Pensava solo a quando e al luogo. È davvero una cosa particolare e credo di non averla mai sentita in nessun altro caso. Ma tornando a noi, finalmente quella Mercedes che tanto amava è stato anche il motivo per cui è stato arrestato. Donato l'aveva acquistata da un suo amico, Pino Monello. Questo è il suo nome ragazzi. Ma non avendo pagato l'intera somma, Pino non aveva proceduto con il passaggio di proprietà. Quindi questo suo amico, ignaro di tutti i crimini che Donato aveva commesso, si regò in procura per contestare tutte le multe che negli anni aveva ricevuto. Ovviamente erano infrazioni fatte da Donato, che però ufficialmente avrebbe dovuto pagare Pino. A quel punto, i carabinieri scoprono una corrispondenza quasi perfetta con l'identikit creato grazie a Lorena. E dopo ulteriori accertamenti, finalmente, il 6 maggio del 1998 viene arrestato all'uscita dell'ospedale San Martino di Genova. Dopo pochi giorni confessò spontaneamente tutti i suoi crimini, attribuendosi anche quei delitti archiviati come morte naturale. Donato viene condannato a 13 ergastoli e 16 anni di reclusione. Durante la sua permanenza in carcere ha pensato più e più volte di tassi la vita, ma come sapete, lui odiava il sangue, odiava il dolore e tutto ciò che comportava. Semplicemente non ce la faceva. Odiava questo mondo, ma non riusciva a lasciarlo. Riusciva però molto bene a strappare la vita di persone innocenti che magari in questo mondo volevano pure starci. Comunque a inizio dicembre 2020, nel carcere in cui risedeva, scoppiò un focolaio di quella cosa che ci accompagna da più di due anni. Scusate ma non posso dire il nome altrimenti chissà cosa pensa YouTube. Comunque Donato prende questa malattia e decide di rifiutare tutte le cure. Stava parecchio male, ma comunque decise di lasciarsi muore per non essere più un problema per la società. Parole sue. E decide nel pomeriggio del 17 dicembre 2020. E le sue ultime parole furono. Andrò all'inferno, ma chiederò a Dio un attimo per chiedere scusa alle vittime. Con queste toccanti parole si conclude la storia di Donato, un uomo mai compreso, le cui intenzioni non sono davvero mai state capite nemmeno da lui stesso. Per esempio, nelle sue ultime parole ha citato Dio, in un modo che non lascia spazio all'immaginazione. Chiaramente crede in Dio e crede che le sue azioni avranno una conseguenza nell'aldilà. Ma pensate un po', in un'intervista del 2004, fatta da Paolo Bonolis per la RAI, alla domanda «Credi in Dio?», l'uomo ha risposto «assolutamente no». Sembra una piccolezza, dato che comunque negli anni le persone possono trovare e perdere la fede, ma in questo caso è solo un altro esempio di quanto confuso fosse Donato. Probabilmente era serio quando diceva di non sapere nemmeno il motivo per cui viveva. E infatti tutt'oggi nessuno lo sa. Credo che questo caso sia davvero affascinante. Purtroppo tantissime persone sono state travolte dalla sua furia, e infatti in questo video ho voluto ricordarle tutte. Ma credo comunque che quest'uomo ci abbia permesso di capire di più sulla mente umana, su quanto può essere irrazionale e crudele se provocata. Bene ragazzi, questa era la ghiacciante storia italiana di oggi. Qualcuno di voi si ricorda il panico che ha seminato quest'uomo? Vi ricordate i telegiornali e i media che ne parlavano? Sarebbe interessante sentire da voi ciò che vi ricordate. Quindi mi raccomando, fatemi sapere tutto. Fatemi sapere anche se questo video vi è piaciuto, e se avete consigli o dritte per farmi migliorare. Detto questo, come al solito, vi ringrazio infinitamente per la visione, e vi do appuntamento al prossimo episodio di Italia nel terrore. Grazie a tutti.